Dopo il grande successo, in edicola due nuove versioni di Super Sabbia! Nuovi colori glitter e grandi novità! La sabbia che brilla al buio! Sono in confezione maxi a soli 3,50 euro! E da metà dicembre in edicola idea regalo! Secchiello da un chilo a 9,90 euro! Sono prodotti... SMA!